La BBC mostra in esclusiva il filmato integrale realizzato dalla polizia scientifica il giorno del ritrovamento del corpo di Elisa Claps, immagini fortissime che mostrano una mano protesa in avanti, quasi a chiedere aiuto. Chiese gremite per la messa della Santa Pasqua, ai nostri microfoni il vescovo Ligorio lancia un messaggio di speranza. Ancora un saldo negativo per l'artigianato lucano, nel 2017 569 imprese hanno abbassato la sara cinesca rispetto alle 489 aperture, la ripresa sembra ancora lontana. La Basilicata è tra le regioni con meno episodi di violenze verbali e aggressioni tra i banchi e quanto emerge da uno studio di scuola.net. Calcio in Serie C, il Matera perde di misura sul campo della vicecapolista Trapani, decisivo un gol d'evacuo ad inizio ripresa. Bentrovati sulla Nuova TV a questo nuovo appuntamento con l'informazione dalla Basilicata. In apertura di questa edizione ci occupiamo del caso Claps. La BBC mostra in esclusiva le immagini realizzate dalla polizia scientifica il giorno del ritrovamento dei resti di Elisa, immagini fortissime che mostrano il corpo rannicchiato della studentessa Potentina e una mano protesina avanti, quasi a chiedere aiuto. Vediamo. Immagini fortissime, un pugno allo stomaco, pochi secondi che fanno riavvolgere il tragico nastro della morte di Elisa Claps. Sono immagini che riportano la città di Potenza alla pagina che l'ha resa tristemente famosa nel mondo, pregna di depistaggi, coperture e omissioni ormai appurate dai fatti ma non dalla giustizia. Per la prima volta dal 17 marzo del 2010, data del ritrovamento del corpo della studentessa Potentina nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità di Potenza, la BBC ha mostrato in modo integrale le immagini realizzate dalla polizia scientifica quella triste mattina di otto anni fa. Le ha mandate in onda nell'ultimo dei sei episodi del documentario realizzato per aprire nuove ombre e interrogativi sulla condanna di Omar Benguit. Per l'omicidio della studentessa coreana uccisa il 12 luglio del 2002 a Barman, la stessa cittadina inglese dove Danilo Restivo, esattamente quattro mesi dopo, avrebbe ucciso la sua vicina di casa, la sarta Eder Barnett. La troupe della BBC è stata a Potenza ed ha incontrato Gildo Claps, il fratello di Elisa, per ripercorrere insieme a lui tutti i lunghissimi anni vissuti alla ricerca della verità. Dalle immagini diffuse emergono nuovi dettagli sulla fine della povera Elisa. Il corpo è in posizione fetale, quasi girato sul lato destro. È un corpo rannicchiato, quasi a volersi proteggere dalla mano assassina che l'ha colpita ripetutamente senza pietà. Ma è anche il segno della sofferenza di Elisa, che molto probabilmente si è arresa dopo un'agonia, non sappiamo quanto lunga. È la mano di Elisa, protesa in avanti e praticamente intatta. Sembra quasi chiedere aiuto. È invece rimasta lì, al buio e al freddo, mentre il mondo continuava a scorrere e il suo assassino era libero di trasferirsi in Inghilterra, dove ha ucciso ancora. Un uomo di 39 anni di potenza è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di omicidio colposo come conseguenza del reato di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. Secondo quanto emerso dalle indagini avrebbe ceduto alcune dosi di eroine e cocaina al giovane di 31 anni, morto molto probabilmente per overdose nei giorni scorsi a Picerno. La vittima era appena uscito da una comunità e da tempo non assumeva più stupefacenti. Maggiori risposte arriveranno dall'autopsia. E la procura di Lago Negro ha disposto l'autopsia sul corpo di un 24enne di Moliterno, morto dopo essere rientrato a casa da una partita di calcetto con gli amici. Il giovane accusava un forte mal di testa e si è fatto visitare dalla guardia medica. Al ritorno a casa però si è accasciato e ha perso la vita. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte del 118. L'esame autoptico sarà effettuato nella giornata di martedì. Chiese gremite oggi per la messa della Santa Pasqua. Noi abbiamo seguito la celebrazione nella cattedrale di Potenza presieduta dal vescovo Salvatore Ligorio che abbiamo intervistato di ritorno dal carcere del capoluogo dove si è recato per celebrare la messa. Con i dettagli tenuti il servizio di Mariolina Notar Giacomo. Chiese e santuari lucani gremiti per la Santa Messa di Pasqua, una celebrazione a cui non si vuole mancare nonostante in molti hanno preso parte alla veglia pasquale della notte. Gremita anche la cattedrale di Potenza per la messa del vescovo metropolita Monsignor Salvatore Ligorio che dopo aver presieduto al mattino quella nella cappella del carcere del capoluogo di regione ha accolto la comunità cattolica potentina nella chiesa madre della città. Forte il richiamo alla speranza non solo un buon auspicio ma una certezza assicurata dalla resurrezione di Cristo dopo il doloroso percorso della croce. Come ha spiegato il vescovo al nostro microfono prima della celebrazione. Il Vangelo della Santa Pasqua ci porta di fronte alla figura di Maria Maddalena che si rega al sepolcro e lì vede la pietra ribaltata. C'è un momento di incertezza da parte di questa donna e vorrei raccogliere nell'atteggiamento di questa donna le incertezze incarnate nell'oggi nel momento in cui penso un giovane che è caduto nella rete della droga incapace a dare più senso alla vita. Penso anche a un malato terminale dove è consapevole che c'è il termine della sua esistenza all'uomo avanti negli anni che ha perso il lavoro e che non trova più speranza a dare risposte in famiglia o ai giovani stessi. Penso anche all'anziano che viene ad essere relegato nella nostra società talvolta ad essere una persona inutile. È il messaggio di speranza che quella tomba è vero che è rimasta vuota, che il Signore non è più lì ma il Signore è qui in mezzo a noi. Riaccendere innanzitutto quel dono della speranza che ci dia visibilità a ricercare risposte in responsabilità soprattutto delle varie istituzioni con un confronto a trovare risposta concreta. È il grido del povero che dobbiamo raccogliere e soprattutto dare una determinazione più specifica e precisa a tutte queste domande. Allora la Chiesa è in cammino e incarnata a prenderci per mano naturalmente con una collaborazione di dialogo costruttivo perché anche chi ha responsabilità progetti un futuro più sereno con risposte concrete a queste domande che si pongono tutta questa nostra comunità. E siamo alla polemica scatenata a potenza da un manifesto ideato dall'Associazione Sinergie Lucane per pubblicizzare un evento al Museo Adamesteano per sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne e il femminicidio, evento a cui parteciperanno numerosissime istituzioni in cui sarà proposto tra le altre cose il cortometraggio prodotto dalla regione Campania dal titolo Amore ma se mi uccidi poi chi picchi. Lo stesso titolo spiega Sinergie Lucane è stato proposto per la campagna di comunicazione dell'evento con un sottotitolo che dice la violenza è l'ultimo rifugio degli incapaci. L'intento del manifesto spiega Sinergie Lucane è di essere d'impatto e centrare il problema alla base della personalità distorta e ambivalente dell'uomo che esercita violenza sulla stessa persona che dichiara di amare. Il nostro scopo, conclude la Presidente di Sinergie Lucane, è quello di alzare il livello della riflessione con una comunicazione forte perché non esiste un linguaggio di genere per affrontare un fenomeno psichiatrico e sociale come il femminicidio. Ancora un saldo negativo per l'artigianato lucano. Nel 2017 569 imprese hanno abbassato la saracinesca a fronte di 489 aperture. I numeri diffusi da confartigianato fotografano un anno difficile seppur con qualche luce all'orizzonte. Sentiamo. Nel corso dello scorso anno 569 imprese artigiane in Basilicata hanno cessato l'attività. 371 in provincia di Potenza e 198 in quella di Matera. Le nuove iscrizioni sono state 480, 310 nel Potentino e 170 nel Materano, riducendo il saldo negativo a 89 unità. È consentito intendo di mantenere lo stock complessivo di aziende del comparto artigiano sopra le 10.000 unità. Sono numeri di fonte Union Camere Nazionale che, commenta Rosa Gentile, dirigente nazionale e regionale di confartigianato, fotografano un anno difficile per l'artigianato lucano italiano, seppure con qualche luce all'orizzonte. Sebbene anche il 2017, come gli otto anni precedenti, si sia concluso con un saldo negativo tra iscrizioni e cessazioni di imprese, il risultato è il meno pesante dall'inizio della crisi e conferma la tendenza al recupero innescata nel 2014. Secondo il report, le performance migliori vengono registrate nel comparto del noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, ma anche per quanto riguarda le attività legate ai servizi e a quello della comunicazione. Risultato ancora negativo invece per le costruzioni e per le imprese che operano nel trasporto e magazzinaggio e per l'industria in senso stretto. Ed ora diamo la linea per qualche secondo alla pubblicità. Design e restyling di interni di Vito Coviello, pitturazioni, carte da parati, controsoffittature, pareti acustiche, coibentazioni, rivestimenti a cappotto, guaine bituminose. Design e restyling di interni di Vito Coviello a Lago Pesola e Potenza. Per informazioni 340-63-70-636-vitocoviello-hotmail.it La naturale ricchezza della terra vulcanica, le cooperative vitivinicole del Vulture, la tradizionale abilità nel produrre vino. Tutto questo è il Consorzio Viticoltori Associati del Vulture. Da 40 anni, ambasciatori della Basilicata nel mondo. Consorzio Viticoltori Associati del Vulture, strada provinciale 93, Barile Potenza. Telefono 0972 77 0386. Consorzio Viticoltori Associati del Vulture, aglianico del Vulture, per passione. Vitraverso torna con un nuovo progetto che porterà la realtà lucana tutta all'interno degli studi della nuova TV. Una nuova sfida in cui non mancherà l'analisi, l'approfondimento e l'inchiesta giornalistica. Con un impatto immediato grazie al confronto con gli ospiti che interverranno. Caffè di traverso dal martedì al venerdì alle 10 e 30 e alle 15 e 30 negli studi della nuova TV. E naturalmente non mancherà il caffè. Ripartiamo parlando di scuola, uno stage formativo ad Amatrice dal 9 all'11 aprile sui luoghi del terremoto e quanto l'Istituto Einstein De Lorenzo di Potenza, in collaborazione con il CNR di Tito Scalo, ha organizzato per gli studenti delle classi quinte nell'ambito dell'Artenanza Scuola Lavoro. Sentiamo. L'intero progetto, che coinvolge tutte le quinte e gli indirizzi dell'Einstan De Lorenzo di Potenza, è stato presentato nell'Aulamagna di Via Sicilia. Ad aprire i lavori il dirigente scolastico Domenico Gravante, che ha fortemente voluto e promosso questa collaborazione per una scuola sempre più radicata e aperta al territorio. Al tavolo il presidente del CNR Vincenzo Lapenna, i ricercatori CNR, Elicia Fanti, Maria Rosaria Gallipoli e Claudia Belviso, insieme per presentare e ufficializzare questo felice connubio. Infatti, la convenzione stipulata tra Einstein De Lorenzo e CNR sarà pluriennale e coinvolgerà i seguenti indirizzi dell'Istituto meccanica, meccatronica ed energia, chimica, materiale e biotecnologie, informatica e telecomunicazioni, costruzioni, ambiente e territorio. Per ora, gli alunni delle due classi quinta G e quinta H del CAT sono pronti per partire per Amatrice subito dopo le festività pasquali, dal 9 all'11 aprile, guidati dalla ricercatrice Maria Rosaria Gallipoli, esperta dei dissesti idrogeologici e sismici e da alcuni docenti impegnati nel progetto. Gli alunni analizzeranno i crolli, compileranno schede sui dissesti sismici e per loro sarà un'esperienza ricca e significativa che li qualificherà sempre di più nella professione che vorranno intraprendere, così come commenta la docente referente per l'alternanza scuola-lavoro del CAT, Lucia Stabile. Ad affiancare la referente, i docenti che accompagnano gli studenti in questo percorso formativo, Patrizia Panebianco, Raffaele Gianzanti, Antonello Lagrutta e Carlo Iannelli. Violenze verbali e aggressioni tra i banchi. Scuola Punto Net ha realizzato uno studio per analizzare la mappa dei comportamenti a livello regionale. La Basilicata è quella con meno episodi. Il servizio è di Celestino Benedetto. In più della metà delle scuole italiane, poco più del 58%, si è verificato almeno un episodio di violenza sanzionato dalla scuola. Di conseguenza solo nel 42% circa degli istituti non ci sono testimonianze di atti fuori dalle righe. Scuola Punto Net ha analizzato la situazione attraverso i dati contenuti nei rapporti di autovalutazione di 18 istituti secondari di secondo grado di 18 diverse regioni italiane. Osservando i RAV che i singoli istituti devono compilare, si può capire quanto è diffusa e come è distribuita la violenza nelle varie regioni, ma soprattutto come rispondono presidi e corpo docente. Passando alle singole regioni, anche se non è dato sapere se questi avvengano tra studenti o vedano protagonisti anche i professori, il primato della litigiosità lo detiene l'Emilia Romagna, seguito da Abruzzo e Toscana. Tra le più virtuose invece spicca la Basilicata, con comportamenti violenti riscontrati nel 34,3% degli istituti e il Molise con il 35%, regioni più piccole e quindi con minori probabilità di problemi. Dai RAV emergono anche i dati relativi alle punizioni che vengono somministrate come risposta agli atti di violenza. Nella quasi totalità delle regioni si prendono sempre provvedimenti. Su scala nazionale solo lo 0,3% degli istituti italiani fa finta di niente. In maggioranza sono semplici richiami verbali o provvedimenti blandi mirati più a far comprendere lo sbaglio che a condannare. Nel 18% dei casi invece si passa a vere e proprie sanzioni che possono andare dalla nota sul registro sino alla denuncia. A livello regionale sono Abruzzo con il 27,3%, Campania 22,6%, Toscana 22,4%, le aree in cui prevale la mano pesante e vengono presi maggiormente provvedimenti di tipo sanzionatorio. All'altro capo della classifica, anche in questo senso, troviamo invece la Basilicata con l'11,4%. Come ogni anno i testimoni di Geova hanno ricordato la morte di Gesù. Le immagini si riferiscono all'iniziativa svoltasi ieri sera al Parc Hotel di Potenza. Da circa tre settimane i testimoni di Geova di tutta la provincia di Potenza, così come gli 8 milioni e mezzo di testimoni in 240 paesi del mondo, si mobilitano per prendere parte a quella che viene considerata come il più importante evento dell'anno, la commemorazione della morte di Cristo. In tutta la provincia si è potuta assistere all'evento in ognuna delle 14 sale del regno dislocate sul territorio. Grazie alla preziosa collaborazione delle autorità penitenziarie, anche quest'anno la Casa Circondariale di Potenza, nelle due sezioni, femminile e maschile, ha aperto le porte all'iniziativa. Ed ora parliamo di cinema. Sarà proiettato nel pomeriggio alle 18 al Cinedreato Don Bosco di Potenza il mediometraggio Il figlio di Dio realizzato dall'Associazione Liberamente. Vediamo. L'Associazione Liberamente è una realtà che vede giovani di Satriano di Lucania cimentarsi da tre anni in attività ludiche, sportive e culturali. I ragazzi, da due anni protagonisti di musical dedicati ai più piccoli, si sperimentano quest'anno al cinema. Così prende vita l'idea di creare, con la regia di Angelo Sagarese, laureato in cinema, un mediometraggio sulla Passione di Cristo, un laboratorio di idee, incontri e riflessioni che ha visto coinvolti nella realizzazione cinematografica, oltre ai ragazzi dell'Associazione, grandi e piccoli partecipanti di Satriano e dei paesi limitrofi. Attori nei suggestivi scenari della Valle del Melandro. La proiezione del mediometraggio Il figlio di Dio a partire dalle 18 al Cineteatro Don Bosco di Potenza. E siamo allo sport con il campionato di Serie C. Un Matera in grande emergenza non supera l'esame Trapani nel turno prepasquale. I siciliani battono i Lucani con un gol di evacua d'inizio ripresa. Vediamo. Per il Matera non sarà una Pasqua serena. A Trapani arriva una sconfitta che non sconvolge la classifica dei materani, ma che lascia qualche strascico per le dichiarazioni di Mister Autere a fine match, che se la prende apertamente con l'atteggiamento di alcuni suoi giocatori molto al di sotto del loro rendimento standard. Nonostante l'emergenza per i tanti assenti e i quattro giocatori epurati, i Lucani sembrano cominciare bene con il tiro di caso di al terzo minuto che si spegne di poco a lato. Ma pian piano i siciliani escono fuori e al ventiquattresimo il Trapani protesta per un gol annullato per un full gioco di evacuo parso comunque netto. Dieci minuti più tardi Tonti deve impegnarsi su una bella acrobazia del numero 9 locale con palla deviata in angolo. Poche emozioni nella prima frazione di gara, Palumbo impegna nel finale Tonti che manda la sfera in corner. Si va a riposo sullo 0-0, due giri di lancette nella ripresa ed ecco servito il vantaggio del Trapani. Al quarantasettesimo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Pagliarulo fa la sponda per evacuo che insacca senza problemi con uno stacco aereo portando in vantaggio l'undici di Calori e facendo esplodere lo stadio provinciale di Trapani. Al cinquantanovesimo si affaccia il Matera in avanti. Urso ci prova con un tiro a giro ma la palla termina di poco a lato. La compagine Lucana non riesce a trovare la quadra del gioco ed è il Trapani ad andare vicinissimo al raddoppio al settantacinquesimo con un tiro di Palumbo che viene bloccato da Tonti. E' l'ultima emozione del match che termina così 1-0 per il Trapani. Il Matera resta al quarto posto ma ora è in attesa della decisione del Tribunale federale per i mancati pagamenti degli stipendi che potrebbe sconvolgere la classifica dei Biancazzurri. Ed ora andiamo a vedere tutti i risultati della trentatresima giornata del girone C del campionato di Serie C e come cambia la classifica. I risultati della trentatresima giornata del girone C di Serie C. Acragas-Francavilla 0-1, Bisceglie-Fidelisandria 1-1, Catanzaro-Catania 0-4, Juve-Stabia-Cosenza 1-2, Lecce-Siracusa 1-1, Paganese-Casertana 1-1, Rende-Monopoli 0-1, Sicula-Leonzio-Rasin-Fondi 2-0, Trapani-Matera 1-0, Riposa-La Regina. La classifica, Lecce in testa con 65 punti, a seguire Catania-Trapani 63, Matera 47, Juve-Stabia 46, Monopoli 45, Cosenza-Siracusa 44, Rende 43, Sicula-Leonzio 41, Casertana 40, Virtus-Francavilla 39, Bisceglie 38, Catanzaro 36, Regina 33, Fidelisandria 32, Paganese 29, Rasin-Fondi 26, chiude l'Acragas a 10. In chiusura vi ricordo che oggi in occasione della giornata di Pasqua l'amministrazione comunale di Potenza ha disposto l'apertura pomeridiana dei due cimiteri cittadini fino alle ore 18. Bene ed è tutto per questa edizione, grazie per la cortese attenzione e a tutti voi l'augurio di una serena Pasqua. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, parzialmente nuvoloso, con schierite prevalenti. In montagna, cieli nuvolosi, con possibili brevi rovesci nevosi. Nel pomeriggio, sulle coste, schierite alternate a nubi sparse. In montagna, nubi irregolari con acquazzoni. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni.